Napoli 3, Spall 1, altra vittoria, la quinta consecutiva, la settima delle ultime otto in campionato e la decima delle ultime tredici gare disputate considerando anche le coppe. Altra importante prova di maturità, quello di questa sera era un match da non sottovalutare, la Spall era un avversario nettamente inferiore con un piede in serie B, ma abbiamo visto nel corso della stagione che i ferraresi talvolta riescono a mettere in difficoltà le grandi riuscendo anche a conquistare risultati inaspettati come la vittoria a Bergamo dello scorso gennaio e considerato appunto che la Spall si sta giocando le ultime speranze di poter rimanere nella massima serie, la vittoria non era assolutamente scontata. Abbiamo avuto l'ennesima dimostrazione di quanto Gattuso sta entrando nella testa dei suoi e di quanto gli sta trasmettendo una grande mentalità oltre ad una perfetta impostazione tecnico-tattica e l'unione che questo gruppo ha raggiunto nuovamente ce la dimostrano i calorosi abbracci che vediamo dopo i gol segnati. Per quanto riguarda la classifica ci portiamo a 45 punti, accorciamo il distacco dal quinto posto occupato dalla Roma a 3 punti, l'Atalanta continua a vincere, non si ferma, quest'oggi ha vinto per 3-2 ad Udine e quindi il distacco dal quarto posto resta di 12 punti. Purtroppo l'Atalanta c'è poco da fare, continua a non fermarsi, adesso giovedì andremo a giocarci la sfida proprio a Bergamo e speriamo bene. Ovviamente l'Atalanta più continua a vincere, più il raggiungimento della zona Champions diventa improbabile, ma conquistando una vittoria all'Atleti Azzurri d'Italia potremo ancora mantenere qualche piccola speranza accesa. Però, ripeto, come sto dicendo più volte, al di là di tutto è fondamentale chiudere in bellezza questo campionato e ci sono tutte le carte in regola per poterlo fare. Inoltre c'è un quinto posto che non è assolutamente lontano, dista appena 3 punti e comunque piazzarsi al quinto posto sarebbe un risultato più che ottimo se consideriamo la situazione nella quale ci trovavamo sino a metà gennaio. E comunque la formazione iniziale quest'oggi è stata come sempre un 4-3-3 in Porta Meret, in difesa sulla destra Isai, sulla sinistra Mario Rui, centrali ancora una volta Maximovic e Kulibaly. Centrocampo inedito formato da Fabian Ruiz, Lobotka ed Elmas e attacco formato dai tre piccoletti Kayekon, Mertens ed Insigne. Partiamo subito ad alti ritmi e dal quarto minuto dopo una bellissima azione Fabian Ruiz serve Mertens che con uno scavetto superalettica segna il suo 123esimo gol in maglia azzurra e ci porta in vantaggio. Dopo il gol dell'1-0 continuiamo ad attaccare, a giocare bene ed andiamo vicini al raddoppio ma al 29esimo arriva l'inaspettato pareggio della Spal, siglato proprio da Petagna che nella prossima stagione vestirà la maglia del Napoli. Troviamo il nuovo vantaggio a circa 10 minuti dalla fine della prima frazione di gioco. Elmas verticalizza alla grande verso Kayekon che da posizione defilata con un destro ad incrociare tira e segna il gol del 2-1. Gol davvero importantissimo e Kayekon quindi festeggia il suo prolungamento per altri due mesi del contratto che lo lega al Napoli e sono veramente molto contento che alla fine un accordo si sia trovato perché una bellissima storia lunga sette anni come quella di Kayekon e del Napoli è giusto che si concluda decentemente cioè con lo spagnolo che giochi fino alla fine questa stagione ed oltretutto accettando di giocare gratis anzi ha proposto lui di giocare gratis Osei ha dimostrato la sua grande professionalità e il suo grande attaccamento alla maglia ed è certamente un calciatore al quale dobbiamo infinita riconoscenza e al quale resteremo per sempre attaccati poi sul finire del primo tempo troviamo anche il 3-1 altra pennellata di Fabian Ruiz che serve Mertens Mertens la mette in mezzo per Insigne che con un tiro piazzato trova il 3-1 ma la rete viene annullata dal VAR per una leggera posizione di fuorigioco da parte di Mertens che aveva fornito l'assista Insigne e il primo tempo quindi si conclude così 2-1 nel secondo tempo riusciamo a gestire con tranquillità la situazione e troviamo il gol del 3-1 quando Fabian Ruiz fa un grande cross per Iunes Iunes appena è entrato colpisce il pallone di testa insacca il 3-1 e chiude i giochi e nel finale è stato interessante anche l'ingresso in campo di Irving Lozzano che ha avuto un ottimo impatto sul match ed è parso molto scattante ed in ottime condizioni fisiche quindi Gattuso ha mantenuto la promessa di dare a tutti la possibilità di mettersi in mostra in questo finale di campionato e come ho detto anche nel post partita di Verona-Napoli in queste prossime gare potremo avere anche la possibilità di rivalutare alcuni elementi della rosa che sinora hanno trovato poco spazio mi riferisco a calciatori proprio come Lozzano, come Iunes in questo momento il Napoli dispone di una rosa veramente molto ampia e ciò in questo momento può fare la differenza perché siamo in un momento nel quale vanno gestite le forze visti i vari impegni nel giro di pochi giorni e appunto ci può essere l'occasione di poter rivalutare alcuni elementi anche in vista della prossima stagione perché comunque prima di cedere profili come Lozzano e Iunes gli darei qualche altra possibilità di salire nelle gerarchie e comunque ritornando alla prestazione generale quest'oggi abbiamo visto un gran bel Napoli un Napoli che è riuscito ad esprimersi con qualità un Napoli che ha messo in mostra un gran bel calcio abbiamo visto un calcio fluido, veloce e qualitativo forse l'unica pecca è quella che nei primi 45 minuti di gioco a tratti abbiamo concesso qualche spazio di troppo in contropiede si può dire che nel primo tempo abbiamo visto rispetto alle gare precedenti un Napoli più bello ma meno solido ma poi ovviamente il come una partita viene affrontata dipende anche dalle qualità dell'avversario e comunque andando ad analizzare la prestazione dei singoli Meret è stato poco impegnato Isai ha fatto la sua buona partita Maximovic e Kulibaly come sempre attenti anche se comunque la retroguardia difensiva è stata poco impegnata Mario Rui così come Isai buona partita ha spinto molto sulla fascia e come sempre dato il suo ottimo apporto in fase di spinta il centrocampo ha messo in mostra una grande prestazione grande prestazione del centrocampo e Fabian Ruiz e Lobotka tra i migliori in campo Fabian Ruiz questa sera ha verticalizzato alla grande ha imposto alla grande il suo bagaglio tecnico a centrocampo ed è stato decisivo sia in occasione del primo sia in occasione del terzo gol ma non dimentichiamo anche in occasione del gol di Insigne che poi è stato annullato Lobotka ha gran bella prestazione anche da parte sua mostra di avere grandi qualità tecniche corre tanto e forse qualitativamente anche superiore a Demme Demme che però è più completo in fase di contenimento Demme comunque riesce a dare maggiore copertura e fisicità a centrocampo rispetto allo slovacco lo slovacco però sono sicuro che con il passare del tempo si dimostrerà sempre di più come un elemento validissimo all'interno della Rosa Elmas si è reso protagonista nell'azione del secondo gol con il quale ha servito un grande assist per Cagliecon comunque è un altro elemento della Rosa in piena progressione che potrà risultare sempre di più utile all'interno della Rosa passando all'attacco Cagliecon è tornato al gol come sempre prestazione molto efficace da parte sua molto efficace anche la prestazione di Lorenzo Insigne che ha corso tanto torna anche in difesa a recuperare palla altra prestazione di grande sacrificio di Lorenzo che continua a dimostrarsi sempre di più leader e Gattuso gli sta trasmettendo sempre di più l'atteggiamento del leader si sta veramente prendendo la squadra sulle spalle e poi Mertens è stato molto freddo portandoci in vantaggio per 1-0 molto freddo facendo lo scavetto e poi comunque è stato sempre tra i più attivi lì in fase offensiva e quindi ragazzi che dire ora ci aspettano le due sfide con Atalanta e Roma nel giro di tre giorni sono due partite che certamente potranno farci capire definitivamente dove questo Napoli potrà arrivare nel finale di campionato ripeto il raggiungimento del quarto posto con l'Atalanta che non si ferma diventa sempre più improbabile ma comunque bisogna cercare di fare quanti più punti possibili anche per arrivare al top alla sfida di Champions League contro il Barcellona e quindi detto questo io vi saluto noi ci vediamo ad un prossimo video e sempre Forza Napoli